Ciao, sono Ilaria della quarta sala, è stata un'esperienza interessante perché abbiamo approfondito cose che non abbiamo mai fatto in classe o comunque abbiamo fatto molto più leggermente. Mi sono divertita anche se non è andata bene. Ciao, sono Sara della quarta bisala, è stata un'esperienza molto interessante, anche divertente, è anche un'esperienza unica e anche un momento per stare di più con i compagni. Ciao, sono Alice della quarta Cisala, è stata un'esperienza incredibile, mi sono veramente divertita tantissimo ed è stato veramente anche un bel lavoro di squadra per tutta la classe, è stato fantastico.